Non si può il potere della figa Ma non è così figa Eh lo so, provo Una bosta Vabbè non buttare, non si nega mai nessuno Ciao MallerWar, vieni MallerWar Andiamo verso la base N-V Guardali uno, guardali uno Lo sparo con la pistola Dov'è? L'ho lisciato Come t'hanno ucciso? Mi check-inano M***a sei tu Muah muah Io ho un klaxon Nessuno mi vede qua Non può me, non può me Spengo la doccia Nessuno che guardi dietro Se vuoi che siete arrivati dopo Che cazzo state fat... Oh! Pervergito Oh c'è qualcuno che ci sparo Oh c'è un elicotro Bio, mio, mio No ma che è? Granato Che è? No c'è un altro infame sopra Sì, d'accordo, l'hai ucciso No C'ho 8 di vita, uccidilo Ecco, col lancio a patate Sniper Sì, dai come pretendo di prendere uno da qua sopra Dai, posso settare bene Va bene, va bene Ma io non vedo così lontano La grafica... C'è uno su A Dove? Su A Ok, non c'è più C'è ancora però Mi ha preso, mi ha preso, io ho preso lui Non è morto Basta, sto dicendo Vado bene Ok, ha fatto una cazzata Curva, curva, curva Carro armato Ce l'ho io il carro armato Ah Sembra una minaccia Sta salendo uno Sul palo Da dietro Dove? Sulla scala, sulla scala C'è una scala sul palo Comunque Io non so Ma non lo vedo Eh, sta salendo sulla scala Io te lo vedo Vedi, la scala è lì Oh, oh, sono tutti qua I nemici? Ma questa base è già nostra Cosa ci ha sparato di preciso? Oddio, non riesco a uscire Oddio, quanto gente c'è? Oh, 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 ma quanti sono? Ma dove? Non li vedo neanche uno Ma stanno solo per tutti Ma parami su Queste è in esterno No, no, non si può Come? Censura Ma chi? Censura Pensi che lo metto, sto coso Dove sto giocando? Ah, sì che lo metto Ma si concreti Perché ti sei ucciso? Ma che bug che hai lasciato Io ho una cosa Anche io ne ho una Vuoi vederla? No Vengo a prendervi Guardaci quant'è Non lo so Sono tutto uno Guardate sulla torre Non va più il mio quadro Con una griffa Arrivo motherfuckers C'è che viene? C'è uno lì Mi metto davanti Dai, c'è che viene? C'è uno lì Ho nessuno che viene con me Qua c'è il best guidatore C'è uno qua, c'è uno qua C'è uno qua Tutto Ah, mi spara Vicenti fortunato? No Io ho usato Ho usato Ecco Managgia a me Managgia a tutti Provo quell'elicottero uninetto Corri fuori Sto andando a fotterne una Come un bullo Sulla macchina Io ho preso il carro Damante Grande Adesso appena muoio Vengo a farti Madonna che volo che ho fatto Carino, carino Appena ho cambiato l'arma La gente mi spara C'è un'elicottero che mi spara? Musia mi spara Ne siano Perché? Ma squadra o squadrone o squadretta? Bravo No C'è uno squadrone Prendo anche Come in quale avversario Fammi vincere Sto girando attorno a un palo C'è un tuo amico Con l'elicottero Prima o poi mi killa Così 10 di vita Io sponso di te che c'è un carro armato e non ce l'hai più Bene Ora ce l'ho io Io vado a Charlie Charlie Aspettami Charlie Oddio Era pessimo Charlie Cos'è? Cosa un bazzucco Non lo voglio Cazzo di camper Bellino sto cucine Mi piace più Della scaracchio Scaracchio Cazzo di camper Dove sei? Sì, 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 sì Ok, arrivo Tieni amico Sperma Ok, scendi, scendi, scendi Scoppio Non lo so Ok Ok, scoppio Non ci abbiamo Fusse in basso e destra Eh, ne? Ma neanche Non si può cambiare solo i suoi velicoli Sarà la modalità del server Oddio, oddio Oh, brutto figlio di Spostiamo uccidere Andiamo da là Io elimino le prove Del mio viaggio Perfetto Perfetto Perché c'è un camion qua sopra? Ma si può entrare a qualcuno Guarda Idea Hai capito cosa voglio fare? Ok, ora sono abbastanza dritto Ma di qui non andiamo da nessuna parte Aspetta Ok, nessuno venga a romperci il cazzo Che io devo farmi Spera in me la volta Ok Sto riconsertando Vuol dire che dobbiamo scappare Aspetta Ok Pronto? Pronto Dai Ma l'ho messo dritto Vuoi usare la mitragia o guidare? È uguale Guida, guida Dove sei? Tu guida Ma perché si è buttato giù? No Non volevo Aspetta Di resuscito La macchina brutta brutta Via 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 Oddio Sono sotto sopra Non è vero Si era addrizzato Eramo sotto sopra Nell Aspettami Tranquillo Sto accendo manhobra Ma ora da che? Vai Poi che vuoi di farmarop Oddio C'è rompo UAAAAH Mi sparo Mi sparo DOVE VAIO? Non è che con le engineer si vede sulla fiamma che di solito Cioè Che serve per Aggiustarli di rompere Eh Seriamente? Che storia Almeno sono così sicuro Tanto adesso tranquilli c'è un pro sul centro no, non ho idea di cosa sto facendo dai come fai a prendere qualcuno? come fai a prendere qualcuno? come fai a prendere qualcuno? che cazzo? questo rumore? il rumore di io che sto uscendo alla mappa ma un altro ma è troppo piccola per girare con un jet dai ma tutte sono troppo piccole per il jet e boom ancora ancora quella di prima era buona ma guarda sono già fuori tutto calcolato tutto calcolato tutto calcolato perché ci voglia di essere morto? vorrei salire sul palazzo e mostrarti il mio grande amore oh oddio dove sei? vieni a spararle per terra col blu c'è uno che arriva anche da sinistra ah ha ucciso in azione su faccio due faccio due ecco cazzo dai sono più colpi è finito è finito mi ha spaccato uno per revolver è finito dove venire a fendere ma sono caduto da dove? eh ho proprio su me perfetto io stavo facendo se aiuto dove andiamo? oh adesso lo scopriamo andiamo a B oh zio sta f***o tutto calcolato? oh oh entriamo da qua entriamo da qua oh oddio mi sei a morti non è di me mi sa che l'assistenza uccisione che vale come kill è quella della squadra della squadra sì no 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 non c'è lì c'è no 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 vieni con me vieni con me sul cuore dai 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 vieni con me sul cuore eccolo nooo la diamo a prendere una batter lì c'è uno dove? guarda avanti guarda avanti scendi l'ho preso col cecchino con il movimento oddio l'ho ucciso lui è lì sul cuore non è che scende no ma l'ho preso con il movimento con il cecchino con il rango mi hai dato la kill anche a te si oddio mi ha sparato qualcuno anche a me e via mi hanno sparato guarda la mappa dove sto fermato eh oh ma che comprende oddio ma non ti fa la testa a 30 ma c'è uno oddio vai esistente in chiusione io vado bjf1 che cazzo cazzo è puristare chi è che hai riparato il mezzo chi è che hai riparato il mezzo? chi è che hai riparato il mezzo? non so sono un engineer io no non sono un engineer cazzo stai dicendo chi è che parla? oh oh guarda io sto sotto oddio dietro 44 44 44 44 sono in tanti cazzo 3 ma è il mio che mi rivivono tutte mi ha schiacciato un po' il cuore e puoi investire la gente? senza volere ma dai mi è esplodato per niente che quanti versi io guarda noi che siamo il più pro dove siamo 13, 14, 15 3, 10, 5, 10 e io sono uscito vabbè no ho di nuovo il quad ho di nuovo il quad a posto ma c'è un dretak si fatti mi faccio male no no dai andiamo a cantonarne una andiamo a cantonarne una andiamo a cantonarne una perchè sono gli alberi lì no io non so oddio un buon altro quad prendiamola no c'è il via 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 spenco oddio via lelli ora sparo ma stavo vincendo insomma dei pro tutto a merito nostro muoio muoio buono ne ho dire ma non c'è chi nato ma è mai possibile ehm dietro di noi no grenatta c'è un dritta che in macchina ci sta sparando un elicottero corri corri oddio non ti guarda non ti guarda non ti guarda non ti guarda a sinistra a sinistra a sinistra a sinistra a sinistra oh oh vai sul copolone si vola si vola si vola ho c'è i buchi però oddio oddio per me ci scendiamo da destra c'è uno oddio ma sono quelli di contro non c'è niente di meglio da fare che inseguire noi oh l'hai fincesso scenditi scenditi guarda dove t'entrata va bene a la l'hai fin che a l'hai fin Grazie a tutti.